Eravamo molto ottimisti, forse un po' pazzoidi, eravamo molto giovani, Pupi aveva una forza fisica anche spaventosa, perché noi e mia madre abbiamo anticipato poi l'arrivo della famiglia di Pupi qui a Roma, la pensione For You servì alla famiglia di Pupi inizialmente il primo anno, forse anche il secondo anno della gestione della pensione come base, ma Pupi continuava a vivere a Bologna, quindi veniva su e giù da Bologna a Roma per proporre questi copioni che scrivevamo assieme ai vari produttori, ai vari distributori che via via si presentavano come occasioni di incontri, ma era talmente forte mio fratello che riusciva a fare questi viaggi, lui li faceva in macchina, su una Giulia che aveva allora, riusciva a fare Bologna a Roma, Roma a Bologna l'ha fatto a volte, è riuscito a farlo anche due volte al giorno, andate e ritorno, perché passava da un appuntamento mattutino magari a una cena che improvvisamente gli si presentava come occasione di incontro, occasione di lavoro, quindi tornava, io mi ricordo delle cose che riusciva a fare mio fratello proprio di una forza fisica e di una resistenza incredibile, quindi questo entusiasmo che mi contagiava lui, io sono sempre stato, l'ho sempre visto proprio per questa differenza di età e per questo fatto che a noi il padre è venuto a mancare quando io ero molto molto piccolo e l'ho sempre avvertita la presenza di Pupi da piccolo anche un po' come una specie di sostituto di figura paterna in un certo senso, quindi la mia attitudine a certe attività artistiche era anche di carattere emulativo, ho cercato anch'io di suonare per esempio senza nessun successo, la cornetta da ragazzo poi mi sono subito stancato, così come il cinema, cioè se mio fratello probabilmente non avesse pensato a un certo momento di voler fare il regista è molto probabile che io il cinema poi non l'avrei fatto, perché come attore molto probabilmente non ce l'avrei fatta da solo, quindi avrei fatto anche un'altra carriera, io personalmente anche se questa cosa si sa poco e si pensa che noi del cinema non sempre siamo così esperti e siamo così attratti dallo sport, dal calcio per esempio, ero da ragazzo invece un grande esperto e un grande tifoso della nostra squadra del Bologna che allora andava anche fra l'altro negli anni 60, nel 63-64 vinse pure lo Scudetto e quindi se avessi seguito quelle che erano le mie passioni esclusivamente personali molto probabilmente mi sarei buttato sul giornalismo sportivo, capito? Ma poi invece emulando e cercando di stare il più vicino possibile al mio fratello e cercare di tenere unita sempre questa bella famiglia che è stata la nostra abbiamo poi deciso tutti assieme di fare il cinema e non è che me ne sono pentito